Domani un appuntamento per conoscere la storia perché si andrà alla scoperta dei Cavanei, queste antiche costruzioni preistoriche. Sì, domani sarà una parte importante perché ricostruiremo, verificheremo e analizzeremo il nostro passato. La nostra storia è la storia di questo Monte Caprione che è pieno, pieno zeppo di storia. I Cavanei sono una parte importante, ce ne sono circa 120, ci andiamo con uno storico Gino Cabano che ha studiato a fondo la storia dei Cavanei del nostro territorio. Domani si andrà alla scoperta dei Cavanei, queste antiche costruzioni preistoriche. Esatto, queste costruzioni sono sul territorio Lericino e sul territorio di Amelia, in modo particolare sul Monte Caprione. Interessano soprattutto il paese della Serra, il paese di Tellaro e il paese di Monte Marcello, Amelia compreso. Sono costruzioni a tollos, cioè a falsa volta, costruzioni che richiamano arcaicità della costruzione stessa. Sono in sostanza quelle che potrebbero essere le tombe del quarto cercolo di Sovana, le tombe etrusche, oppure assomigliano a tutte quelle strutture che si trovano nel mar Mediterraneo, intorno al Mediterraneo, che sono i trulli, che sono le navette spagnole, che sono i nuraghi sardi. Insomma, ecco una costruzione di questo tipo.